Allora, aspetto che siate un po', così cerchiamo un attimo di chiedere la situazione perché regà non ce la faccio. Allora, io non vi dirò mai, mai quello che è successo tra me e Tancredi perché vi ripeto che le cose rimangono tra me e tra lui. E su questo siamo tutti d'accordo. La cosa che a me più preme è il fatto, ma non so nemmeno perché sto facendo questa live ragazzi, tanto che questa cosa mi ha preso un attimo. Allora, il fatto è, semplicemente, io di cose negative nella mia vita non ne ho bisogno. Quindi se Tancredi mette story su di me, non me le mandate. Stop. Non ho bisogno di avvelenarmi la vita per colpa di Tancredi che piuttosto di scrivermi su Whatsapp, dove va Instagram a parlare, fare video su YouTube e ok. Allora, ci tengo a dirvi una cosa. Posso capire che magari uno dice, eh ma lui è carino, eh l'hai trattato male. Ragazzi voi della nostra relazione non sapete niente. Perché è giusto così? Perché è giusto che magari io qualcosa della mia famiglia non ve la dico? È giusto che qualcosa del mio fidanzato, ex fidanzato non ve lo dica? Come è giusto che io magari non vi dica qualsiasi cosa della mia vita? Ok? Il fatto è che non accetto le persone che mi stanno insultando in direct, dandomi della merda e non censuro, dicendomi che io sono senza cuore, quello, quello e quell'altro. Ragazzi, basta. Perché uno non avete voce in capitolo, perché non è una relazione me, voi e Tancredi, ma è una relazione me e Tancredi. Basta. Se Tancredi ha voluto mettermi in mezzo, io non lo so, e è testuale e lo sapete tutti, che io il giorno, che ci siamo, no, ci eravamo già lasciati già un po', da qualche giorno. Quando ho deciso di dirvelo, perché mi continuavano ad arrivare domande, ma tu e Tancredi state assieme, tu e Tancredi state assieme. Io vi ho detto, io e Tancredi non siamo più assieme, non vi dirò perché, perché è giusto così. Ma vi ho detto da subito, che io e Tancredi, di quello che c'è su Tancredi non vi avrei mai detto nulla. Poi, un'altra cosa, ribadisco una cosa che vi ho detto, perché si spegono le luci? No, ok, un'altra cosa. Ieri Tancredi nel video ha detto sicuramente delle cose belle, che comunque è stata una bella relazione, questo assolutamente io non lo metto in dubbio, perché comunque stiamo stati insieme un anno. Però comunque ci sono state tante cose in mezzo, che in una relazione secondo me devono e non devono esserci. Quindi, il fatto che lui abbia detto nel video, io vedrò poi se a Jenny questa cosa andrà bene, poteva risparmiarsela, poteva dirmi lui, Jenny ti va bene se faccio questo video, se lo posto sui social? Io ovviamente gli avrei detto di no. Uno, perché non voglio che si apra il capitolo. E secondo, non è quello che ha detto, che è malato fastidio, è stato proprio il fatto di aprire il capitolo. Riaprire energie negative che non ci servono, capito ragazzi? Io mi sto vivendo una cosa così bella in questo momento, ciao Chiara, mi sto vivendo una cosa così bella, una cosa così positiva. Perché adesso riaprire il capitolo di una rottura con il fidanzato e di una situazione che ormai era chiusa? E si stavano già calmando le acque, io ero contenta che non arrivavano più domande su questa cosa. Perché non è una persona che mi scrive, sono centomila persone che mi scrivono tutta la stessa cosa. Io di spiegazioni della mia vita privata non le devo a nessuno se non a me stessa. Ok? E adesso leggiamo un attimo questi... Sto seguendo la live... Ok. Vorrei un attimo chiarire questa cosa. Io in questo video non vi ho detto niente, sto cercando soltanto di farvi chiarire una cosa. Non devo dirvi assolutamente nulla perché non è una fiction. Non è un programma televisivo e non vedo perché Pancredi mi abbia semplicemente detto queste cose sui social. Piuttosto che scriverle a me che sono la diretta interessata. E questo, oh mio Dio, ok, sono qui. Io tra l'altro non saprei veramente come mettervela giù questa cosa ragazzi. Perché ci sono tante cose che sono successe. Abbiamo sbagliato sia io che lui. Ma arrivare a dire, puzzi del latte, perché chiami mi madre. Tua madre mi ha chiamata. Perché Serena mi ha sempre trattata come una figlia. E io ne sarò sempre riconoscente. Tanto che anche quando io e Tancredi c'eravamo appena lasciati, lei mi scriveva sempre. E io scrivevo a lei per dirle, guarda Serena sto bene. Lei mi scriveva, Gianni stai bene? E io, sì sto bene, tranquilla. Ma non è che se io parlo con la mamma di Tancredi è per forza perché per il litigio è quello e quello e quell'altro. Vorrei un attimo farvi chiarire questa cosa. Perché se no così cadiamo veramente nel ridicolo, nell'infantile. Io vi chiedo di non parlarmi più di questa situazione. Perché a me questa situazione non voglio sentirne più parlare. Scusatemi se sono... Adesso io questa live ve la salvo. Così va perché tanto io il video su YouTube non lo farei e non ve lo posso fare. Qui non voglio nemmeno farvelo, assolutamente. E lo soltanto per chiarirvi le cose. Perché a me di fare trash, di fare sto flame, shitstorming, non mi va veramente ragazzi. È veramente una roba ridicola. Non c'è bisogno, non sono cose che mi riguardano personalmente. Non sapete io con quanta gente magari ho litigato e cose varie. Ma non è che se litigo una persona lo dico su Instagram, per l'amor del cielo. Nulla raga, cercate di stare più possibile nella vostra positività. Non voglio che la mia storia, ex storia con Tancredi, diventi un luogo comune. Sì, siamo stati una coppia del web molto bella. Abbiamo vissuto dei momenti molto belli. Ma non c'è bisogno di renderli un merchandising. E non ha veramente senso. Io la prendo veramente a sorridere questa cosa perché non ho assolutamente voglia di avvelenarmi. E nulla, spero di avervi detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mettete like e commentate. Iscrivetevi al canale, raga. Dai! Bye! Ciao Grazie.